100 attenzione attenzione da stradu e chiude subito tornante sinistro 100 a rail sinistra 2 gira 30 destra 4 più 4 più 30 attenzione destra 4 meno lunga chiude 3 4 meno lunga chiude 3 chiude 3 per sinistra 4 sfiora sinistra subito destra 3 chiude subito destra 3 chiude 30 sinistra 3 meno meno chiude 3 meno meno chiude per destra 2 taglia 2 taglia 30 destra 5 50 attenzione attenzione sinistra 3 meno 3 meno per sinistra 3 apre 50 sinistra 3 per subito destra 3 chiude sinistra 3 subito destra 3 chiude 30 destra 3 sali 30 destra 3 più destra 3 più per sinistra 4 in destra 3 più taglia 3 più taglia 30 attenzione 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 a rail sinistra 3 meno chiude chiude subito destra 3 lunga taglia 3 lunga taglia in sinistra 3 meno gira 3 meno gira per destra 2 lunga chiude 2 lunga chiude 50 al cartello sinistra 3 meno meno chiude 3 meno meno chiude subito destra 4 in destra 3 meno meno sali 3 meno meno sali per sinistra 4 30 al rail destra 3 meno 3 meno per sinistra 3 più subito destra 3 meno 3 meno 30 attenzione attenzione sinistra 3 diventa sinistra 2 2 per destra 1 sinistra 3 più scendi in destra 4 destra 4 30 attenzione attenzione destra 2 gira 2 gira 30 sinistra per destra 50 sinistra 3 più taglia in destra 4 meno taglia 200 4 meno taglia 200 attenzione 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 sfiora sinistra per destra 30 al rail sinistra 3 chiude 3 chiude sinistra 3 chiude 30 sinistra 3 apre 50 al rail sinistra 4 più 4 più 30 attenzione attenzione sinistra 3 meno meno gira 3 meno meno gira 30 30 destra 3 lunga taglia 3 lunga taglia 3 lunga taglia poco per sinistra 4 più 2 tempi 4 più 2 tempi 150 tieni vai tieni attenzione destra 2 gira destra 2 gira 50 30 vai 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 344 3 2 3 6 6 Grazie a tutti.